Terreni inquinati, discariche molto vicine ai centri abitati, rifiuti industriali sotterrati in prossimità delle falde acquifere. Sono solo alcuni esempi del disastro ambientale che i tecnici provinciali hanno dovuto affrontare e risolvere negli ultimi anni. Le più importanti bonifiche ambientali in Alto Adige sono adesso descritte in una pubblicazione curata dall'Agenzia Provinciale per l'Ambiente. Non a caso è stata scelta per la presentazione del libro L'Area Ex Alumix, una delle zone bonificate a Bolzano, libro che ripercorre i passi più importanti di intervento fondamentali per la salute e per il rispetto dell'ambiente. Nel periodo, compreso fra il 1980 e il 2010, sono stati investiti complessivamente oltre 90 milioni di euro per la bonifica di terreni industriali. Tanti soldi però spesi bene e oggi vediamo gli effetti positivi per quanto riguarda sia il suolo ma anche l'acqua ma soprattutto anche per quanto riguarda l'aria. Come ha sottolineato l'autore della pubblicazione Renato Palaia, ex direttore dell'Ufficio Provinciale Infrastrutture, si tratta di interventi di bonifica di fondamentale importanza per l'intera collettività. È giusto quindi portare a conoscenza quanto fatto negli ultimi anni fornendo più informazioni possibili non solo agli addetti ai lavori ma anche ai comuni cittadini. Sono interventi che hanno una scassissima visibilità e anche una scarsa risonanza a livello di informazione dell'opinione pubblica. Però la loro importanza è notevolissima nonostante questo handicap iniziale. Le bonifiche ambientali descritte nel libro riguardano le aree industriali Aluminia 1, 2 e 3 Alumix, l'ex area dell'azienda Magnesio e la zona che ospiterà il futuro polo scientifico e tecnologico di Bolzano. Trova ampio spazio anche la bonifica della collina Bolzano Sud, meglio nota come collina Pasquali e la discarica di Castelfirmiano. Per quanto riguarda Merano invece vengono descritte le bonifiche della zona produttiva di Sinigo, della Memc e della discarica della Valsura. Questa è l'eredità che noi abbiamo ricevuto dalla generazione che ci ha preceduto. Abbiamo ricevuto discariche abbandonate e siti industriali contaminati. L'obiettivo della nostra generazione è stato quello di restituire questo terreno alle persone, quindi a un uso urbano o alla natura come nel caso della discarica di Castelfirmiano. Complessivamente sono stati risanati i circa 40-50 ettari che corrispondono a 80-100 campi da calcio per intenderci. L'Assemblea generale dell'ONU ha nominato il 2015 come anno internazionale del suolo. L'obiettivo è quello di sottolineare l'importanza di questa risorsa non solo come luogo del cibo e della biodiversità ma anche come vero e proprio antidoto al cambiamento climatico. In quest'ottica si inquadra anche la nuova pubblicazione realizzata, ricordiamo, dall'Agenzia Provinciale per l'Ambiente.